Molto spesso ti accorgi che ami la vita quando la morte il dolore ti lacera ed è accaduto a Gela una città lacerata dalla morte di Giuseppe Lauretta un insegnante di religione che è stato capace di far piangere tutti la sua storia incredibile in viaggio di nozze muore la moglie Melissa rimane così e lo aspetterà probabilmente per tutta la vita attenderà che questo ragazzo torni con il suo sorriso che la gente era abituata a ricevere da lui è un insegnamento molto forte ma una riflessione va fatta in questo momento in cui la città è lacerata politicamente e in cui la città vede gli uni contro gli altri armati Giuseppe Lauretta ha invece unito tutti unito nel dolore unito nella riflessione persino i social network che sono stati usati in quest'ultimo periodo per farsi dal male per insultarsi sono diventati invece riflettere sui valori della vita su come un giovane come Giuseppe è stato privato di quella gioia che tanti hanno avuto di poter formare una famiglia di poter veder crescere i suoi figli di poter vivere in serenità in pace e anche nell'amore di Dio come aveva fatto per tutto il periodo della sua vita ho scoperto tra l'altro essere il genero di una persona che conosco da tantissimi anni impegnato nel mondo del volontariato e ho capito questo ragazzo ha creato in tutti noi un sussulto sussulto perché tutti vorremmo che certe cose non accadessero e intanto accadono in maniera sistematica e nessuno di noi può farci nulla se non capire che certe lezioni di vita possono essere utili per abbassare i toni per comportarci in maniera diversa ecco è una riflessione diversa da quelle che vi propongo di solito ma l'idea di questo ragazzo così bravo così che ancora contano che possono essere valori forti e intangibili nella nostra società una società liquida come la chiama bauman ma una società dove ancora certe cose rimangono molto molto importanti ed allora ripensiamo a giuseppe con la sua con i suoi modi di fare con il suo sorriso ripensiamo a questo insegnante di religione che ha dato tanto e che ha stabilito anche dei processi educativi importanti crediamo che come lui si possa affrontare la vita sociale grazie grazie